Buongiorno, grazie. Io faccio un'introduzione riprendendo quando è stato detto perché questo progetto sono due progetti, uno dedicato a Palazzo su Musei Nazionali di Lucca, uno dedicato a Palazzo Manzi e uno dedicato a Villa Guignici. I musei ovviamente sono due, hanno caratteristiche fondamentalmente diverse perché una è una residenza d'epoca e l'altra invece è un museo tra virgolette tradizionale, ma hanno anche una forte, numerose uguaglianze perché è un humus, le collezioni sono state, c'è una specie di osmosi tra le collezioni dei due musei. Proprio il fatto che la regione toscana abbia finanziato, cioè abbia dato la possibilità di finanziare entrambi i progetti ha dato la spinta maggiore al pieno funzionamento del progetto perché noi abbiamo potuto investire i sei ricercatori in un progetto comune che riguarda entrambi i musei nazionali e con la collaborazione anche della direzione regionale dei musei e in particolare dei musei nazionali di Lucca. Quindi abbiamo messo su un'equipe interdisciplinare perché avevamo un archeologo, due storici dell'arte, un informatico, un economista e un giurista, un esperto di diritto del patrimonio culturale, ciascuno dei quali si è occupato di aspetti diversi dei musei, musei nazionali che hanno tutta una serie di lacune da un punto di vista sia della conoscenza dei pubblici, dei problemi a carattere amministrativo, diciamo di sfida a carattere amministrativo e quello che poi riguarda la catalogazione scientifica delle collezioni e il database. Per cui abbiamo avuto una serie, abbiamo dato una serie di risultati concreti, poi Pasquale Forte, di tutti i ricercatori entreranno nel dettaglio, che sono un report finale su un'analisi del pubblico e della gestione diciamo dei musei nella prospettiva recente con soluzioni operative per il futuro, un report sui diritti legato ai diritti dell'immagine, alla digitalizzazione delle immagini, questi due sono report che sono stati consegnati poi alla direzione regionale dei musei, poi c'è stata la parte diciamo quella più consistente che era l'inizio della catalogazione scientifica delle collezioni dei musei perché i musei non hanno l'ultimo catalogo del 1968, quindi gli archeologi e gli storici dell'arte sono stati impegnati nella catalogazione e questo ha affiancato la realizzazione di un database che attualmente è in fase di test perché il database è stato realizzato e poi dovrà andare, girare sul sito della direzione regionale dei musei della Toscana. Quindi io lascio la parola a Pasquale Focarile dicendo che sono quello che diciamo abbiamo provato a fare è di produrre tutta una serie di risultati concreti tangibili e appunto come era nel desiderata dei progetti regionali anche scalabili perché anche a partire dal stesso database e dal modo di impostare la catalogazione abbiamo fatto, abbiamo impostato in un modo possibilmente innovativo come vedremo che potrà essere eventualmente utilizzato anche per altri musei della Toscana e non solo. Grazie. Lascio la parola a Pasquale Focarile che parla a nome del gruppo di lavoro. Sì, io parlerò soprattutto a nome del gruppo schedatoi, di coloro che si sono occupati di costruire i contenuti da immettere all'interno del catalogo. La freccetta non vi dà ragione. Devo andare avanti. Forse è collegato. Ecco. Quindi il gruppo schedatoi si è occupato di tre sezioni fondamentalmente del patrimonio dei due musei nazionali di Lucca. La collezione archeologica di Villa Guinigi con Elena Pontelli, la collezione di arte medievale, di pittura medievale del Museo Nazionale di Villa Guinigi ancora con Virginia Caramico e la Pinacoteca del Museo Nazionale di Palazzo Manzi. Questo per quanto riguarda il lavoro di schedatura che, come diceva il professor Pellegrini, la confluisce all'interno di un catalogo digitale. Giusto. Qui il punto di partenza, diciamo, soprattutto per gli schedatori è stata la precisazione e molto spesso la ricostruzione ex novo della storia istituzionale dei due musei, che ha conosciuto vari momenti di intersezione e di varicazione fino all'assetto attuale. Qui abbiamo pensato di dar conto della storia postunitaria, veramente una sintesi, e con un piccolo passo indietro al 1850 perché l'anno dell'arrivo del patrimonio che oggi è a Palazzo Manzi a Lucca. E dalla Pinacoteca allora a Palazzo Ducale si passa alla Pinacoteca comunale del 1875, che è la prima istituzione che raccoglie archeologia, pittura, scultura medievale e pittura moderna, segue, ecco qui, queste sono immagini d'epoca, segue la nascita del Museo Civico di Villa Guinigi, che è l'istituto che per la prima volta dà forma alla separazione fra il patrimonio lucchese, diciamo l'arte lucchese e l'arresto del patrimonio della città. In questo grafico, lo vedete piccolino qui, in questo grafico la situazione si complica con l'avvicendamento degli enti preposti alla gestione e tutela del patrimonio, da un lato, e l'azione svolta da diversi organi di tutela, locali, le commissioni o l'avvicendarsi degli organi statali, quindi le soprintendenze. Ed è dalla ricostruzione e precisazione di questo quadro che è molto complicato nel tempo, che hanno preso le mosse le nostre ricerche e che hanno consentito, da un lato, di sgombrare il campo da imprecisioni storiografiche o vere e proprie mistificazioni, come nel caso della Pinacoteca di Palazzo Manzi, e ricostruire virtualmente un archivio degli oggetti dei due musei, integrando quello esistente. Uno dei problemi, il principale, diciamo, almeno alla bio, è che l'archivio dei due musei nazionali conserva quella parte di sedimentazione naturale dei documenti sulla gestione dei musei, ma pochissima documentazione sugli oggetti, che si è dovuto rintracciare proprio attraverso le maglie di questi passaggi istituzionali. E quindi un risultato sicuramente rilevante della ricerca è stato il censimento della documentazione nei luoghi di conservazione, la documentazione sugli oggetti, che sarà, si spera, molto utile alla gestione del patrimonio museale. Un altro lavoro importante, fra quelli preliminari alla schedatura, è stata la verifica degli oggetti sugli inventari, che darà luogo a un'implementazione dell'inventario corrente dei due musei. Infatti l'avvicendamento istituzionale, tutto quello che i due grafici riassumono, ha creato zone di conflitto e zone d'ombra nella gestione dei musei e quindi ciò non ha facilitato la formazione di un archivio degli oggetti. E fatta eccezione per un piccolo gruppo, le opere dei musei lucchesi non posseggono alcun dossier o altro strumento che tenga traccia della storia, del materiale e critica degli oggetti. Ed è per questo che è stato indispensabile riconnetterli alla loro documentazione primaria o esistente, per poi procedere al lavoro di schedatura vera e proprio, che ovviamente non raccontiamo qui. A completamento delle attività di documentazione capillare delle opere è stata intrapresa una campagna fotografica digitale del nucleo di pittura medievale di Villa Guinigi, che è stata possibile grazie alla collaborazione di IMT con la direzione regionale dei musei e con l'Università di Firenze. Le fotografie ad alta risoluzione serviranno all'illustrazione del catalogo digitale e al contempo costituiranno strumenti di servizio per il monitoraggio della conservazione delle opere. Il punto di partenza, come già accennava il professore, è variato molto da museo a museo, da collezione a collezione. Infatti per Palazzo Manzi non esiste un catalogo, non è mai esistito. Per Villa Guinigi esiste uno strumento ormai datato, questo catalogo del 68, che è stato poco più di un punto di partenza naturalmente per chi si è occupato di quella collezione o di quelle collezioni, anche perché il riallestimento del 2004 ha stravolto completamente il museo, una parte delle collezioni è stata rimossa, molti altri oggetti sono entrati. Quindi il nuovo catalogo è il primo strumento che fotografa in qualche modo la situazione corrente all'interno dei musei. La nuova campagna di schedatura e il nuovo catalogo è anche pensato nella forma del dossier, perché ogni scheda avrà una sua appendice espandibile con gli aggiornamenti storiografici o di conservazione delle opere e quindi quel che si è voluto creare è non soltanto un catalogo scientifico aggiornato all'anno di lancio del catalogo, ma anche uno strumento di aggiornamento costante per il museo di informazioni sulle opere. Ora queste sono alcune foto, diciamo, degli allestimenti attuali di Villa Guinigi. Avendo per mandato la creazione di un catalogo digitale, ovviamente un peso specifico ha assunto la definizione di una scheda agile, atta alla descrizione di una varietà di oggetti ben superiore alle tipologie attualmente presenti nei musei di Lucca, in previsione di una crescita patrimoniale. Sono stati esaminati tutti i principali cataloghi digitali presenti in rete e discussi pregi e difetti fino alla definizione di un database che come si diceva in questi giorni è in fase di completamento e testing e quindi abbiamo pensato davvero di inserire alcune immagini che dessero conto da un lato della complessità della struttura dell'architettura con le funzioni, dall'altro alcune maschere di inserimento che danno conto è della varietà della tipologia di oggetti e della complessità della descrizione quindi tutti i campi, misure eccetera eccetera ma anche su questo non è opportuno entrare in dettaglio. L'obiettivo è stato dunque la creazione di un sistema aperto, non un mero contenitore di schede attraverso il quale sia possibile effettuare ricerche analitiche attraverso tutti i campi principali, il sistema è interrogabile con delle semplici parole chiave, è davvero su tutti i campi. Dunque un catalogo con tali funzioni intende raggiungere pubblici molto diversi, di studiosi e non, fornendo le informazioni più aggiornate sugli oggetti d'arte e dall'altro stimolare ogni tipo di ricerca sul patrimonio lucchese attraverso il recupero di tutte le possibili connessioni fra oggetti catalogati anche collocati nelle due diverse, nei due diversi musei Palazzo Manzi e Villa Guinigi. Il lavoro di schedatura di un patrimonio così ampio ha riportato alla luce moltissime microstorie sugli oggetti ma anche macrostorie sui musei che si compongono proprio attraverso le microstorie e sono tutti questi risultati scientifici che crediamo importanti per i due musei e in questo senso la scelta di affidare a pochi spedatori di fatto un patrimonio molto vasto si è rivelata virtuosa perché ha consentito di costruire uno sguardo d'insieme sulle due realtà dalle quali sono venute fuori non solo le microstorie ma appunto le lacune sulla storia dei due musei e anche la necessità di correggere davvero alcuni errori storiografici rilevanti e un aspetto rilevante di questa ricerca è stata l'indagine sulla provenienza degli oggetti o sulla ricostruzione dei contesti nel caso dell'archeologia qui davvero tre esempi ma solo a titolo illustrativo per la parte medievale per la pittura medievale la ricostruzione di nuclei di provenienza la precisazione dei nuclei di provenienza delle opere che quindi danno anche un'idea e un'immagine costruiscono un'immagine indipendente dall'allestimento che non sempre rispecchia i nuclei di provenienza e per Palazzo Manzi invece l'obiettivo era andare oltre l'informazione diciamo principale che è quella del trasferimento di quella collezione da Firenze a Lucca e ricostruire la vita degli oggetti prima dell'arrivo a Lucca quindi un lavoro di fatto su soprattutto su documentazione fiorentina sul sull'archivio in archivio di Stato e nell'archivio della delle gallerie fiorentine in conclusione le indagini capillari e sistematiche rese possibili da questo progetto hanno prodotto contenuti scientifici destinati anzitutto agli organi di amministrazione e direzione dei due musei nazionali di Lucca su questi entrambi gli attori potranno contare per elaborare le iniziative future di divulgazione e valorizzazione del patrimonio locale il catalogo digitale è lo strumento che abbiamo fornito noi in quanto gruppo di ricerca e consentirà un accesso alla conoscenza da parte di tutti i pubblici pubblici molto diversi stante la validità di questi propositi il progetto originario ha già trovato e contato sul finanziamento della cassa di risparmio di Lucca e di MT per il rinnovo di un anno ed è in fase di ulteriore implementazione con l'estensione del lavoro su tutta o quasi tutta la collezione di Villa Guggi quindi il lavoro prosegue e la continuità dell'attività di ricerca è naturalmente vitale al potenziamento del museo come istituto di ricerca attivo e come organo pubblico di promozione della cultura più il radicamento sul territorio delle collezioni che siamo andati a studiare e ciò assegna alla comunicazione del museo una precisa responsabilità civica della quale in qualche modo ci siamo fatti anche il carico con una piccola diciamo parte e questo è il quanto. Vi ringrazio. Grazie.